Rosso-Blu in viaggio da questa mattina alla volta dello stretto di Messina. La città siciliana rievoca l'ultima sfida in Serie B giocata dal Campobasso. Era il 21 giugno dell'87, fu 1-0-0 contro un Messina già salvo e che portò i Rosso-Blu agli spareggi contro Taranto e Lazio. Forse proprio a Messina e più di 30 anni fa si sarebbe potuta scrivere una storia diversa per il calcio campobassano. Il presente parla di una sfida delicata in chiave salvezza. In palio punti davvero pesanti. Da una parte un Messina in cerca di continuità di risultati, dall'altra un Campobasso, rullo compressore fuori casa. Riecco bontà fra i centrocampisti in attesa di lato per il quale il tempo dovrebbe essere quasi scaduto. Modifiche in attacco dove Cudini potrebbe dare vita ad una nuova rotazione. Fuori ancora di Francesco per infortunio. Il reparto offensivo, secondo le previsioni della vigilia, potrebbe essere composto da Rossetti, Liguori e Vitali. Le ultime sul fronte Messina. Non è da escludere che Mister Capuano cambi solo una o due pedine rispetto all'ultima gara persa a Castellammare di Stabbia. Sarà come di consueto 3-5-2 con Lewandowski a difendere i pali. In difesa confermati Fazzi e Carillo a completare il reparto. Mikulic ancora in pole rispetto a Celic e Fantoni. Chiavi del centrocampo a Damian con Simonetti e uno tra Conatè, Fofana e Catania. Correrà a destra Morelli sul versante opposto. Puttini davanti, Vukusic sarà affiancato da Adorante. Scalpita Baldè, Messina indietro di sei lunghezze rispetto al campo basso. L'inizio della gestione Capuano è stato discreto sotto il profilo dei risultati. Cinque punti in tre partite, ma la squadra era già molto indietro dopo un inizio di torneo davvero negativo. Allo scoglio sarà gara vera domani pomeriggio. Il fischio d'inizio tra Messina e Campobasso verrà dato a partire dalle ore 14.30 dal signor Pascarella di Nocera Inferiore.